Hohohohohohoh Basta Basta Ciao ragazzi, ciao a tutti sono VG Future, questo è MuckhiuTV e oggi sono in compagnia di Mr. Crip, questo tipo che mi sta dietro in moto Ciao ragazzi, ciao Mestor Crip. Come va? come va? come se ti potessero rispondere oh è da un bel po' che non ci facciamo una partita insieme o no? vabbè sei stato impegnato tu perché hai fatto un po' queste cose della music perché lui è un musicista ad altri tempi ad altri livelli allora oggi volevamo vedere un po' le nuove modalità quella là alla tron, con la moto tipo tron no? ora dobbiamo capire come entrarci perché non ho più palli d'idea allora ma prima di cominciare andiamo a vedere un po' se ci sono i nuovi abiti qualche nuovo abito che hanno implementato chi lo sa? magari è carino ragazzi ma guardate come è figo il simbolo dei tvb vediamo se ce l'ha 18.240 ce la dove fa cazzo comperata Mr. Creep bene allora ci siamo rimessi a nuovo e ora possiamo entrare nelle nuove modalità con le motociclette tron ma quanto sono cattivo con questo completo madonna ragazzi è un figaccio un selvaggio vero un vero selvaggio non sono partito con l'accelerazione mi sono scordato ma tutto ciò è incredibile Mr. Creep vai giù Mr. Creep madonna hai buttato fuori si Mr. Creep purtroppo questa è una guerra e nella guerra si fa di tutto per vincere oddio sono andato giù si può giocare anche da solo non è coglione e ora ti raggiungerò in effetti l'ho fatto apposta per dare un po' di pepi alla partita se non facevi il coglione all'inizio a buttarmi fuori strada se la storia si faceva con i se io sto scrivendo la storia in questo momento Mr. Creep no no tu stai vincendo perchè mi hai buttato al Creep no 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 sono andato pure io giù quindi hai avuto il rovescio della medaglia ora se non mi superi è solo colpa tua Mr. Creep se non mi superi è solo colpa tua sono finiti in acqua eh lo sapevo vedi non sai ruocare non sei un vero ruocatore di GTA piloti non c'è sfida con te è troppo facile batterti adesso arrivo mi sa che arriverai in un altro video e magari da solo con la mano e va a vincere va a vincere Vidi Futures Vidi Futures uno dei più grandi piloti del mucchio selvaggio in GTA io a differenza tua eh la moneta facile dello zio Peppe non ce l'ho devo vincere le partite vedi io i soldi che odio tutti guadagnati giocando andate su Steam a vedere Mr. Creep quando c'ha di ore di gioco e spiegatemi come fa ad avere tutto quel danaro perché l'ho fatto con la PS3 e poi con la PS4 oh finalmente abbiamo trovato l'attività Tron vai che poi non so non so come sia la scia mortale oh quindi possiamo giocare solo noi due vedi queste sono le grandi cose della vita siamo praticamente i Daft Punk io non so proprio che cosa si debba fare in questa sessione ma lo scopriremo subito Mr. Creeps modalità competizione scia mortale mi sa che si deve fare un po' come Tron no? si stiamo uno di fronte all'altro oddio oh 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 no ma sai qual è? è che mi vedevo dall'alto e non riuscivo a vedere un cavolo come si attivano quei bonus speciali? meno male che c'è un giocatore di tutti i tempi eh ma questo no questa modalità no è nuova però dopo un po' la scia va via ah ti sei distrutto ancora ho cancellato Mr. Creep no volevi eh? lezzo madonna ragazzi lezzo Mr. Creepa però dobbiamo ammettere che il tuo nick è appropriato dai Mr. Creepa va bene che cre... crepi morirei questo no figuraccia oh siamo due a due ti prenderò Mr. Creep ti prenderò e ti distruggerò maledetta ma perché io sto cercando di capire ecco no ah 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 ma adesso posso mi uscire eh ma mo non mi freghi più mo la so come funziona oddio sono sbattuto vicino al muro non pensavo che vicino al muro scoppiasse e muore Mr. Creepa ho obliterato Mr. Creepa da solo ti sento? saltarsi e morirei ah 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 stavi morendo ancora e meno male che eri trasparente madonna ragazzi come ti ho obliterato mister creep volevi non ci riusci comunque per i cari amici ascoltatori cari amici ascoltatori sei un vero video gioco ho un kill ratio che fa paura madonna ragazzi non sto facendo niente quello si ammazza da sola e vince e vince ancora video i futures ragazzi io penso che questo gameplay sia durato anche poco io e mister creep vi salutiamo e ci vediamo al prossimo gameplay va bene? ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti